Da questa parte, passando dal centro arriveremo al palazzo del governo per l'alba Alla faccia, dove ti riposi zia? Oh, donna dalle mille risorse energie sta qui Complimenti Anyway Andiamo di qua Non li smettesse di piovere Schifo non farebbe Porca miseria Ecco come sono questi edifici da vicino Grandi Sono fottutamente altri Oh, wow E tipo non passerei mai neanche per un milione sotto due edifici che stanno così, mi dispiace Nella speranza di uccidere il più infetto possibile Che cavolo era? Tess, hai sentito? Sì Mi sembrava abbastanza lontano Merda Marto Siamo salto Per ora Dai Qua sicuro Via di culo Oh Cavolo È un bel salto Bene, il palazzo del governo Sì Superiamo questo Vuoi dire che questo è il certo Era Ora è desolazione Qua se mi butto muoio A parte non pensano che mi faccia buttare Di qua per forza Come sono stupido a volte Cioè le cose mi si palesano davanti e io sono così stupido da non accorgermene Bellissimo Bellissimo Da qui Allora Magari qua c'è qualcosa Ovvio che no Mancherebbe altro The goldstone building Oggetti Cose belle Tesori Niente tesori Niente tesori Niente oggetti Niente cose belle Qua sotto Tampoco No Aspetta questo Edificio goldstone Wow Che sforzo Nell'ethering Andiamo a salire va Accendo la luce va Della serie potevo salire anche da là E' stato fatto a pezzi Si E' morto da poco Ed è un male? Si potrebbe Andiamo No va benissimo E' morto da poco No Non c'è da preoccuparsi Tranquilla Fai come se tu fossi Alla tua festa di compleanno Si Ovviamente se mi butto E' la fine della fan E qui niente c'è Una sola Strada One way possible Che è questa Luglio 2033 Eh Waters Contatto negativo Contatto fottutamente Negativo Il soldato Hot water Segnalo Contatto di Siamo Ok I soldati sono morti Interesting I clicker Li hanno massacrati This is the solution Ragazzi Come Inpe Scusate se Vi rompo sempre i coglioni Su questa cosa Dicevo Perdonatevi se vi rompo i coglioni Ma Questo gioco ragazzi L'esplorazione della mappa Fa Tantissimo Sembra che l'edificio Stia per cadere a pezzi Eh Che te che c'entri Grand però Aspetta 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 Prima De fa Tu minchiate Una dietro L'altra Mi vediamo un attimo su Appunto Tanto poi so che C'è da di là Quindi Vabbè dai Per un nastro E per delle forbici Si può fare Allora Qua ci potrebbe essere un pochino di robetta Invece no Dammi una mano con questa Una domanda Ma sti qua non si lavano mai Merda Eh così va anche a sprecare un kit medico Grazie Non è niente Cerchiamo propiste Maledetto te Oh è stata tosta Vuoi dirlo Forse andiamoci a riflettere Me c'è E penso sia L'essere Che più di tutti Mi mette Mi fa proprio cagare addosso Dalla paura Se vedrò tutti i videogiochi Che abbia giocato in vita mia Non ho giocati tanti Perché non ho giocati tanti Un essere che mi faccio più paura Schifo Ribrezzo Dei clicker Penso non ce ne siano C'è giocato Dying light Ho giocato Days gone Giocati un casino Ma nessuno Ha raggiunto Questi livelli Quelli dei clicker Bello Ottimo Pardon Ci sta un cazzo In realtà ci stava anche abbastanza No 15 Praticamente Meno caro e distanza Modalità d'ascolto Ma me ne servono altri 5 Ma confido che li troverò Presto Panno Sì poi Sti rumori Veramente inquietanti Dei clicker Ragazzi Con le cuffie Così isolate Voglio morì Giuro Voglio morì Speravo Dei morì Prima Fammi salire Vado a controllare Vai zia Ehi guarda se c'è moda di passare Ok Via libera Dai è lì Ok sei su Dai Prima lei Che stronza Ci sei Ecco qua Ok Dai Omone Andiamo Yeah Ok Ok Quanto li odio Che poi ci vogliono ben 3 colpi di pistola per ammazzarli Questa è brutta merda E però distraendoli così potrebbe essere un ottimo modo Vabbè ma se uno lo puoi fare se sono tanti Sì se Proprio Vottutissimo Sei Grazie volevamo saperlo sai La fonda delle scale è bloccata Dobbiamo tornare su Come dobbiamo tornare su Aspetta no aspetta ci sarà una soluzione Questa Eccoci ragazzi Dai Dentro Hai capito bene Non guardare in basso Zio Khan C'è un passato Ma questo può essere sempre utile Vado a controllare Rimani con la ragazza Ok Vento voleva che selezionassi il revolver Ma io il revolver non lo voglio C'ho pochi colpi Allora Ciò Vieni Circondati proprio Non dovevi usare il coltello Zio Maledetto te Perché Un clicker Via Subito Ok Ok Sento stare il coltello Tormi 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 E va Munizioni per pistola Ok Allora So che lì c'è un clicker C'è un clicker Dormiente Allora Via Via Ci vuole calma Ci vuole calma E sangue E freddo Ci vuole calma Baby Ci vuole calma Ci vuole calma Mi manchi solo tu Più clicker Via 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 un'altra Adesso Adesso dovrebbe rimanerci Il clicker Perché non posso Fabbricare Le Cazzo Di molotov Avrei risolto il problema Vabbè Tant'è c'è col clicker Zitto Senza coltelli Però almeno I clicker si mangiano I piselli Bene Scendi Bene Altre tre munizioni Prende e porta a casa Sì Molte volte Mi dite live Mamma Sei molto silenzioso In queste situazioni Sì Perché in queste situazioni C'è Hai praticamente Un tentativo A disposizione Basta Perché Se sbagli Con un runner Ti si rivoltano Tutti contro Ti sbagli Con un clicker Proprio ti uccidono Quindi Buona E tra l'altro Il clicker Era in una posizione Particolare In cui tu Non avresti potuto Evitarlo Quello è il bello O magari avrei potuto Anche evitarlo Però vabbè Ok Test vai Ok Aspetta Dovrebbe andare Ok Aiuto Grazie Una volta Siete stati Helpful Oh Un altro Ok Prende il porto A casa Ripeto Va tutto bene Ah 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 Ok Andiamo Ok Aspetta Allora Si scende Si l'ho capito Che si scende Però dove aspettare Che controllassi No Attenti dietro Tu dove si scende Da qui Sai Stavo pensando Quando saremo tornati Potremmo prendercelo Più con comodo Vuoi prendertela con comodo? Sei tu quello che fa sempre Le cose con comodo E tu non mi hai mai dato retta Già Questa volta Non ci credo Finchè non lo vedo San Tommaso Allora Qua non ce ne merita Sega Quindi possiamo salire su Dai Dammi Un piccolo oggettino Dai Ti prego Da merda Sotto Sotto Che ci sta? Di qui Allora aspetta Non c'è proprio niente Perfetto Mi Mi Quando tipo Scopi una Una figa stretta Che piccina bassa Eh Eh No Si può dire Perché ci sono molti bambini Qui però Almeno gli educhiamo bene Anyway Sotto Aspetta C'era qualcosa Si Ma il mio zero Non mi consente Di fare niente Vero Il kit medico Tutto quello E un coltello Oh Eccoli Com'è Mafiosa la cosa Che praticamente Sia per il kit medico Che per la molotov Servono gli stessi Ingredienti preparatori E quindi della serie Cioè Fai uno Fai l'altro Che roba Oddio Sto punto Ragazzi Ecco Voi non avete idea Di quanto io Ho di questo punto Beh una cosa Saggio da fare Ragazzi Potrebbe tipo essere Attirarli tutti lì E lanciogli Una bella Molotov Che ne dite Brucia Perché non sei morto Brutta merda Ne è morto uno solo Ma che mafiata Non ho sufficienti cose Basta di urlarmi Nelle orecchie Ti prego Due click Ancora Cioè no Magari voi lo state sentendo Dal telefono Mai lo sto sentendo Nelle cuffie Tipo delle cuffie Che costano Una cosa come 200 euro E Non potete capire Quanto Ti faccia Cacare addosso Una cosa così Fuori Ricarica Tanto poi Fatti fuori Click E siamo a posto Finiti È stata un po' più silenziosa Di quel che pensassi Però Ci si sta Derek Nella libreria Ci lascia usare La sua cassaforte Quando chiudi Questa sera Mettici dentro Le mie cose 3 43 78 Ok Una munizione Per pistola Wow Chiamiamo il bastoncino Va Vabbè Quando mi daranno Il big rifle Sarà tutto Più diverso E rispetto Alla versione PS4 Devo essere onesto È molto Più buio Molto Molto Mass Creepy Che non Sto Né vedendo Né udendo Nessuno Anche perché Di clicker Stito anche C'ha troppe Volte La loro voce Quindi Buona Qua se ne nascondeva uno Ma probabilmente È già stato ammazzato Quindi bene Qua sotto Cosa c'è Niente L'utilità Di fare Questi cassetti Vuoti Veramente Non ha un cazzo Di senso Vaffanculo Andate Va Tutto un rumore Di un clicker A me piglia male Quando sento Un rumore Di clicker Forse non si è capito Sono stato io Dov'è 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 Che non è solo Zitto 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 Non fiatare Grazie anche per i colpi Non dovevi In realtà si dovevi perché Cioè Mi è rimasto più un cazzo Anyway Che cazzo trovo il codice Zì Ah È vero Era la lettera 03 Sì Questi rumori Però potete Evitarli 3 43 78 Vabbè Essere quello No No Che palle 03 Su Chi è il cazzo 50 Buono Anche se c'era solo quello Però Vabbè Non ci si lamenta Qua signori Sulla bottiglia Ok C'è un clicker lì Non posso fabbricare Nei monotov Nei kit medici Vabbè Nei kit medici Sono a posto Dimmi che c'è qualcosa Per fare una monotov qui Così la facciamo finita Clicker C'è un clicker C'è un clicker C'è un clicker Joy Laggiù A sinistra Vediamo se è così Di giustezza proprio Ho sprecato un coltello ma Giusto così Su forza Vado prima io? Vado prima io Oddio si ricordo questa parte Su scendi Che non dovrebbero esserci infetti qui Me lo credo Sì sì vedete lì sì Ricordavo una parte tipo una metropolitana con tanta acqua Però non l'ho detto perché pensavo fosse della sto fast 2 Perché l'ho giocato tutte e due Tempo fa ricordo L'uno l'ho giocato tipo nel 2015 L'altro l'ho giocato tipo appena uscito Però Qualcosa ricordo ma Ma vagamente quasi nulla Ok incredibile la luce Ok allora la parte Nella metropolitana con l'acqua È della sto fast 2 Exactamente Allora Qualcosa c'è Grazie a tutti Allora Grazie a tutti